Per salutare vi devo raccontare una storiella che secondo me rappresenta bene l'incontro di quest'oggi. C'era una donna che non poteva fare la spesa perché non aveva nulla. E allora scrive un bigliettino e lo porta direttamente dal commerciante che stava venendo. Dice guarda non ho soldi per fare la spesa però ho bisogno, siamo tanti in famiglia, dammi una mano. Dice guarda non ho tempo, vieni in un altro momento, non è questo il momento per fermarti. E la donna insisteva, voi sapete avrete letto qualche volta che le donne importune anche nel Vangelo hanno una corsia preferenziale, ce l'ha detto Gesù. E questa donna insisteva, non ho niente da mangiare, cosa do ai miei figli? Mio marito è disoccupato, sono in difficoltà. E quell'uomo dice guarda non ho tempo, non vedi quanta gente c'è prima di te, lasciami perdere. Ma era in buona fede, la gente ha bisogno sempre quando sei preso, quando hai tanto da fare, quando hai la testa altrove. L'uomo dice per favore aiutami. Allora quell'uomo un po' spazientito dice guarda tu hai bisogno di troppa roba, non riesco. Dice per favore prendi la mia richiesta e esaudiscila. Cosa fa questo commerciante? Mette la sua richiesta sulla bilancia, dice ti darò tanta roba quanto pesa questa tua richiesta. Faccio così anch'io tante volte, troppa gente bussa alle nostre porte ormai, non sa più cosa fare. E allora gli sfidi, dice vabbè. Ti trovo a lavoro, poi voglio vedere se aiuti gli altri. Ti metto, vengo lì a casa tua a mettere insieme la moglie o col marito, ma poi speriamo che combinate qualcosa di buono. Nel momento in cui lui comincia a mettere questa richiesta di questa donna sulla bilancia, vedi che più caricava l'altra parte della bilancia più questa pesava. Non riusciva mai a finire. E continuava a caricare. E il pane, la pasta, le uova, la verdura, il latte per i bambini, non bastava mai. E allora cosa fa? Un postizito prende questa richiesta e la legge. Signore, tu sai che io ho bisogno di tutto, ora non ho più niente. Affido il peso della mia preghiera alla tua santa volontà. Ecco, io credo che il volontario sa che non ce la può fare da solo. Sa che per rimediare le strutture anche di una certa giustizia un po' poco distributiva, bisogna dare qualcosa di più. Ecco, voi nella vostra realtà comunale, insieme alla parrocchia, insieme a tutta l'associazione, potete fare questo salto di qualità. Sentire le richieste della gente, accoglierle, fare insieme questo sforzo di pesare, soppesare e distribuire a favore di tutto. Ecco, era il mio piccolo saluto, accettatelo, accoglietelo come chi vi vuol bene, chi vede che quando si fa qualcosa di bello è conteggioso. Adesso torno a casa e dico ai miei ragazzi, guardate che a San Nazaro ci hanno bagnato il naso, sono più bravi di noi. Così suscitiamo un po' di emulazione positiva. Grazie a tutti, scusate se vado. Grazie A Donenzo per ringraziarlo di questa importante testimonianza della sua presenza, lo mandiamo, lo facciamo ritornare alla sua casa con i suoi giovani, con la storia di San Nazaro. Grazie davvero Grazie Donenzo Grazie